Nel video precedente Questa non è Ibiza Lo capiamo solamente quando lo vediamo come Luigi Tenko E' la carne Una dichiarazione per ricordarsi di questa giornata? E' bello essere Fantastica Piena di cicli E' un ciclo continua oggi Tutti hanno il mar rosso Paciuccio vai lì Ma dimmi che non rimane a cipedrice Sei bissuto Ah! Ah! E' presa il volo! Eccolo qua! Attenzione signori Questi sono gli effetti speciali Questa cazzo dura sta cosa? Caru tutta tua Ci vorrà proprio una bella ragazza qua Chiedi e ti sarà dato Donna bagnata, donna accaccionata Lotta gripe romana No! No! Sembra qualcos'altro Però vabbè Ho avuto un p***o a iniziare così Sto facendo qualcosa Comincio a fare il freschino Allora ragazzi Adesso giochiamo a prendere Giulio Siete pronti? C'è una variante del gioco Che si chiama Facciamo pipì su Giulio Mi siete spaventati un pochino? Fì che se non lo stessi guidando Se non lo stessi guidando Se non lo stessi guidando Lui è impassibile Lui zero Proprio tranquillo Ragazzi mi raccomando Azioni eseguite in sicurezza da professionisti Mi raccomando Non fate scarsi del genere anche voi Perché può essere molto pericoloso Soprattutto se non siete voi a guidare Perché avviene un infarto che guida E fate veramente l'incidente Comunque raga siamo tornati presto Ma la giornata non è finita Il resto del video però sarà in macchina Ma ho comprato la luce Quindi si vedrà bene C'è il microfono Sarà figo Fotina Ah foto Ah sono in riserva Fantastico Poi già sta dietro Ragazzi Ricordate sempre l'altezza dell'appoggio testa Molto importante Tanto quanto la cintura Ciao Sono in riserva Molto molto bene Cos'è il telefono? Col bambino dietro slacciato Aspetta 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 Eh il telefono sto c***o Ecco perché va così piano Eh bravo Mettilo via Figlio di c***o Gli esploda il c***o Dai che è verde C***o di merda C***o Adesso lo tampono Ti fermo e stiamo a fuori verdi Perché è il telefono Io lo sapevo raga Quando vanno in giro 20 a loro Perché sono al telefono Teste di c***o No No Finché non seminiamo sto figlio di c***o Guarda col bambino slacciato Col bambino slacciato C***o di merda Salve signore Siria guarda Un IP Ogni due IP c'è un URA Noi spieghi anche le c***ate che dici Noi parliamo sopra alla musica Non prende il copyright Va bene parliamo A manetta Ma se canta una canzone che ho inventato io Su una canzone Potrebbe essere il copyright La rileva la stessa Prende il copyright della canzone che hai inventato tu Io mi sento alle 5 per andare a lavoro Quindi non c***o di c***o Raga noi andiamo a divertirci Voi no 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 Spero che si stiano divertendo a guardare questo video A dopo Signori E luce fu Wow Che carino C***o la mia collana huaiana Dove l'hai lasciata? Nero zaino? Lì da donne Ah l'hai perso in giro Giro Vabbè posso fare le pochine Esci da questo corpo deforme Dove andare a destra? Vediamo un po' il benzinato Ci sono a destra Ma se io non ho detto la foto? Eh? Siete lasciati? Sì Poggio a destra? Sì Carichi? Sì Prima inserita? Sì Nessuno si è accorto che non devo metterla prima Non la patente Capito ma se metto la prima vado contro il muro Eh io che ne so Non ce l'ho la patente Scusa Mi aiuti tu? Eh? 5,8 100 punti Comunque La giornata per noi è quasi finita Come penso anche questo video Raga avete le cinture? Lo so anch'io dare C'è che mi sta chiamando? Pronto ma? No potete lasciarlo collegato Lasciamo Come lo facciamo il video se non mi lascia il telefono collegato? Metti via la voce Penso però dobbiamo portare una persona L'osso Che sono molto simpatica La migliore Umiltà bambino Comunque è la prima volta che registro con questa nuova luce Quindi spero che si veda bene il video Oltre che sentirsi bene perché c'è il microfono Spero che questo video vi diverta Fatemelo sapere nei commenti Un attimo Scusate Scusate Un croce brutto Giusto È vero Che lui si concentra Ok Sto guidando Ragazzi quando guidate Pensate a guidare Profondo Bellissimo Bellissimo Mi piace La tengo Ciao belli Dove lavoravo io? Ciao bello È single Instagram in descrizione Vieni Meno uno Qua c'è il suo bestiaio Ok Sbagliato Sbagliato Tutti Non ho trovato niente sotto l'1,9 Sì ma Ok la via è giusta Chi è? Ok Sì Ti hanno riconosciuto Bella raga Bella sono io Ciao raga Come che ti ho fatto a riconoscermi? Eh ma Sei riluminato da Gesù Siete tutti bellissimi Ciao Sono Zoe Ciao Sono Zoe E amo i caldi abbracci Ciao sono Zoe E amo i caldi abbracci Grazie a tutti Grazie a tutti Posso andare a destra Posso 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 sicura 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 Ok È andato a destra Non si vedeva un cazzo No raga sto incrociando a me Ma è bastardissimo Mamma mia Ma non si vede un cazzo Poi non è pure neanche illuminato Anche mio padre lo odio Ma è illuminato Madonna Capolavoro Scogliattolo Ma non cane Ciao a me Ciao Bene raga Allora Abbiamo registrato abbastanza Concludiamo qua Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate di questi video Perché la maggior parte dei miei video Saranno così Io lo so che mi piacciono tanto i devi Ma non posso farvi solo devi Tutte le opinioni nei commenti Le apprezzo sempre tanto Abbonatevi Fate un corso di primo soccorso Scaricate l'app dell'112 Che vi geolocalizza molto importante E comprate l'airbag per andare in moto Ciao 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 Grazie a tutti.